Cari spettatori di Gossip News Ita, oggi vi portiamo le ultime indiscrezioni su Belen Rodriguez, la celebre showgirl che sta attraversando un periodo di silenzio sui social media che ha preoccupato molti dei suoi fan. La notizia è che Belen Rodriguez non sta passando un momento facile, a causa della sua separazione da Stefano De Martino e della perdita della conduzione delle Ienen su Mediaset, ora nelle mani di Veronica Gentili. Inoltre, sembra che si sia trasferita a Brescia, nella casa del suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni, lasciando i figli a Milano con i rispettivi padri e nonni. L'ultima indiscrezione proviene da Padova ed è quantomeno inquietante. Sembra che qualcuno abbia avvistato Belen entrare in una clinica privata della città, alimentando dubbi sulla sua salute. Il quotidiano Il Gazzettino ha tentato di ottenere informazioni dalla struttura, ma la clinica ha rifiutato di rilasciare qualsiasi dettaglio, dichiarando, non parliamo, non diamo informazioni sui pazienti. Nonostante ciò, più di una persona giura di averla vista all'interno della clinica. Belen Rodriguez sembra circondata da una massima riservatezza e supporto da parte della sua famiglia, che, secondo fonti ben informate, è più vicina che mai in questo momento, insieme al suo nuovo compagno Elio. Sono loro che si stanno prendendo cura di Belen in questo periodo difficile. Lasciateci sapere nei commenti cosa pensate di questa situazione e se avete delle informazioni aggiuntive. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Notizie e Gossip, lasciare un mi piace se l'articolo vi è piaciuto e commentare con le vostre opinioni. Restate con noi per tutte le notizie più recenti su Belen Rodriguez e altre celebrità del momento. Grazie per essere stati con noi e a presto.